Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive, nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Viagoni 56, Milano. Il programma è offerto da Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it A meno tre partite dalla fine del campionato, la Juve cuce sulla sua maglia il 34esimo scudetto, quinto di fila. We made history. Il Spalletti si toglie un sassolino dalla scarpa, facendo crollare il Napoli a Roma. E soprattutto Milan continua a perdere di fila. Ma andiamo subito a sentire che cosa ne pensano i nostri ospiti in studio. Sergio Brighenti, buongiorno. Buongiorno a tutti gli sportivi. E spero che siano stati contenti di questo campionato, perché è stato veramente bello. Filippo Vernazza. Buonasera a tutti. Che dire, più che il campionato, che penso Sergio, che poi al di là degli ultimi due mesi... Perché era imprevedibile, dico. Sì, anche se poi l'imprevedibilità di fatto si è... Dal momento... Napoli poi è capitolato proprio... Nel finale, nel finale. Sì, secondo me ha perso quella che era la sua sicurezza, proprio Torino contro la Juve, quando la Juve segnò con una ciabattata di Zazza, perché questo va detto, una partita che a mio avviso era... Palla anche deviata. Sì, era più giusta, finisse in parità. Ma una Juve che parte da meno, meno, meno e scoppia a fine campionato. Da metà campionato in poi. Brighenti. C'ha due grandi personaggi che la Juventus deve ringraziare sempre. E che sono l'allenatore Allegri, che ho avuto il piacere di lanciare nella nazionale Under 21, e il direttore sportivo Marotta, che ha avuto quattro anni collaboratore a Varese, ed è uno scopritore di talenti eccezionale. Con questi due uomini ha fatto cinque campionati, di cui l'ultimo era imprevedibile, incredibile, eccezionale. Di fatti Lippi intitolano Gazzetta con Lippi si congratula con Allegri, il miglior allenatore italiano. Cosa ne pensate? Ah, io lo sottoscrivo immediatamente. Allora, Allegri ha, a differenza di tanti altri allenatori, è preparatissimo. Comunque ormai ha una carriera alle spalle che parla nei numeri di questo signore. Comunque mi pare che negli ultimi anni non abbia sbagliato niente. neanche allo stesso Milan. Perché io mi ricordo quella rincorsa pazzesca che portò poi Milan in Champions League con 13 gol di Balotelli, se non erano nel giro di ritorno. Parlo di tre anni fa. Poi, ahimè, il Milan lo cacciò, in malo modo, a mio avviso. Ma questo perché? Perché è un allenatore che differentemente a Mancini, piuttosto che a Mourinho, ne cito qualcuno... Diciamo così, e non è uno yes man. Non ha quella pill, o quel modo di veicolarsi, di comportarsi nei confronti della stampa che lo porterebbe, a mio avviso, agli stessi livelli di Mourinho e Mancini. Cioè, non si relaziona allo stesso modo, è, per così dire, considerato da alcuni stupidamente, meno figo rispetto ad altri. Però i risultati li porta nel senso... Invece è una persona, secondo me, coerentissima, un ragioniere del calcio e soprattutto ha la competenza e la coerenza che in altre figure manca. Specialmente, ultimamente, poi, assistiamo a delle situazioni a livello di panchine in vere conde, oserei dire. Nel senso che non si può pensare che ogni volta si possa partorire un allenatore dalla primavera. Perché la preparazione che ha portato, ad esempio, Allegri a questo punto della carriera, ad essere uno dei migliori sulla piazza, è anche in virtù di quello che ha passato antecedentemente. Precedentemente. Cioè, è stato al Cagliari, al Cagliari ha fatto la sua esperienza, ha fatto bene, poi andò al Milan e fece altrettanto bene e quant'altro. Quindi, tante volte, la capacità di un allenatore figlia anche delle situazioni che hai vissuto. Più alleni, più, per certi versi, diventi bravo. Questo, per quanto riguarda Allegri, poi ci sono degli allenatori, io cito Zeman, che viceversa, non hanno mai cambiato quello che può essere la loro ideologia. E da ultimo, chiudo, Allegri è stato bravo, anche perché, ad inizio campionato, creò quella coesione nello spogliettoio della Juve che stava venendo a mancare. Ma perché? Perché, proprio in sede di campagna, trasferimenti, la Juve perse poi tre fenomeni. Uno, Pirlo, l'altro, Vidal, che attualmente Vidal, ricordiamola, è il miglior giocatore del campionato tedesco, unitamente a Reus del Borussia Dortmund, e davanti perse Tevez quest'estate. Quindi, Allegri è stato bravissimo, a mio avviso, e anche la prima parte della stagione, dove tante volte la Juve sparò salve e perse delle partite, ad esempio con l'Udinesi, mi ricordo che, sinceramente, a livello di gioco non meritava poi di perdere, ecco. Quelle prime partite riuscirono, Allegri riuscì a compattare il gruppo attorno a chi? Attorno ai Buffon, ai Chiellini, ai Barzagli, che sono di fatto uomini veri, sono uomini veri, perché questo è da dire. Vorrei però ricordargli la cosa, che Allegri aveva un ruolo in campo, era il regista della squadra, quando era giocatore, io l'ho avuto come giocatore, regista, non avevo neanche bisogno di dare le direttive perché le prendeva direttamente lui. Questo per dirti che già precedentemente come giocatore guidava i compagni. Sì, io infatti ritengo che poteva essere, a mio avviso, la carriera similare, avrebbe potuto farla Seedorf, similare, perché Seedorf notoriamente era un altro calciatore, pur in un'altra collocazione tattica, perché giocava o da esterno di destra o da centrocampista centrale avanzato, però era colui che nel Milan stellare impartiva gli ordini agli altri. Quindi, secondo me, ecco da dove nasce la sciagurata gestione del Milan, dagli albori, cioè da 3-4 anni fa quando mandarono via Allegri e non confermarono neanche Seedorf. Siamo andati finiti nel Milan. Esatto, ma di fatti prima di andare a casa Milan, io volevo farvi questa domanda. Marotta, un grande talescount, Allegri, un grande allenatore, ma se il prossimo anno Morata torna al Real e Pogba se ne va, siamo a punto a capo. Come potrebbe essere la gestione di In Casa Juve? Presidentemente, te l'ha spiegato lui, aveva mandato via tre giocatori che erano tre fuori in classe e gli ha ricomposto la squadra con giocatori che erano in parte sconosciuti da tutto. E questo è il merito del tale scato. Parliamoci chiaro, Di Bala, quando arrivò a Torino il primo mese e mezzo fece male, tant'è che sovventemente partì dalla panchina. E quindi questo cosa sta a significare? Che poi, se tu hai un gruppo forte, dei giocatori, tipo io cito Barzagli della situazione, che sono in grado in due mesi di far cambiare mentalità a dei futuri, futuribili campioni, quali Di Bala, il risultato è che comunque questi giocatori poi riescono a esprimere nel tempo il massimo potenziale. Cioè, faccio un esempio, dovessi partire tu dici Pogba, io per 100 milioni che è un po' quello che a me risulta 80, però su questa cifra assolutamente. E chi potrebbero essere secondo voi i nuovi? Allora, la Juve ha... in sede di mercato aveva un preaccordo inizialmente con Gundogan, poi non ha esercitato questo preaccordo e di fatto Gundogan finirà al Manchester City anche per una cifra importante, si parla di 45 milioni di euro. E quindi, a centro campo la Juve sta ancora valutando quelle che possono essere le alternative. Secondo te Morata sarà di nuovo in casa Spagna? Sì, anche perché non è questo qua, non c'entra niente la Juve, cioè, l'opzione è esercitabile da parte del Real Madrid, appunto, quindi Real Madrid probabilmente eserciterà questa... No, no, non chiedere a me perché io non posso dire e non posso parlare di acquisti o vendite perché sono un tecnico federale anche, oltretutto. Allora, Sergio, come tecnico federale so che tu hai molto piacere di parlare di un argomento e di ricordare una persona. Ah, ecco, vorrei ricordare che 58 anni fa l'Italia pareggiò per la prima volta in Inghilterra 2-2 a Wembley nella quale io partecipai segnando a Google ma volevo ricordare soprattutto il capitano che nessuno ne ha mai più parlato che si chiamava Segato ed era il capitano della Fiorentina e di questa squadra per parecchie volte come nazionale e ora visto che è un ricordo di 58 anni fa vorrei che anche la moglie che da tanto tempo di Segato aspetta un ricordo perché ne parlano così denamente che ci ricordassimo di questa partita di cui lui era capitano e fu la prima volta che l'Italia non perse in Inghilterra facciamo 2-2 ma come mai secondo te alcuni campioni svaniscono un po' nella storia e altri invece si radicano ancora molto più in modo più più forte Segato probabilmente la causa è perché è morto molto presto è molto che aveva ancora 40 anni purtroppo di un malanno grave e ha lasciato moglie e figli e si sono dimenticati completamente di lui ma lui mi ricordo 58 anni fa ha portato l'Italia a pareggiare davanti alla regina d'Inghilterra 2-2 e questo per la prima volta Spalletti Spalletti finalmente si toglie un sassolino dalla scarpa come ho detto prima perché dice mi avete insultato tutta settimana e guarda guarda magari riuscirò ad arrivare secondo in classifica più per fortuna che per meriti perché la Roma ieri non ha fatto praticamente nulla fino all'ottantesimo non mi ricordo un tiro in porta da parte della squadra allenata appunto da Luciano Spalletti ha avuto la fortuna questa ciabattata come solitamente succede durante le partite di ugual forza tra due squadre di ugual valore ha ciabattato una palla a Nainggolan ed è riuscito a segnare ieri ha avuto anche una scarsa vena realizzativa Higuain perché Higuain ha avuto per due volte la palla buona per poter portare in vantaggio il Napoli e si dimostra poi l'attaccante che è fenomenale per carità campionissimo però di fronte a un certo tipo di pressione sommentemente va a vuoto mi ricordo anche nei mondiali cioè voglio dire nei mondiali due anni o sono ha avuto la palla per consegnare di fatto il titolo all'Argentina e sbagliò clamorosamente un gol davanti al portiere quindi è un attaccante che secondo me fortissimo per carità ma non lo reputo campione c'è un fuoriclasse che è qua il campione è qualcosa di più cioè un campione attualmente nel calcio probabilmente ce ne dovrebbero essere due che sono Cristiano Ronaldo da una parte e Messi anche se lo stesso Messi campione con un grosso punto interrogativo perché in Argentina con l'Argentina non è riuscito ancora a vincere nulla ma secondo te Sergio non è che è un po' demotivato un po' scazzato si dice in slang hai detto giusto lui è immotivato perché è molto nervoso purtroppo in certe partite lui è demoralizzato e si ferma poi va detto che mentre ci abbiamo Messi che lui succeda qualsiasi cosa in campo è sempre uguale continua e invece Iguain che è un grandissimo giocatore se non lo sostieni non c'è qualcuno che lo tiene su di morale si lasse andare l'unico vero campione ancora e tant'è che quando entra ancora adesso ci sono scusate il gergo i difensori centrocampisti che hanno una sorta di paura nella partita di ieri è Francesco Totti Francesco Totti io se dovessi scegliere tra Totti e Iguain io parlo a parità di età centomila volte Totti è molto più determinante è molto più decisivo è comunque un giocatore che ha vinto un mondiale ma sono altri ruoli insieme a Del Piero e a quel gruppo storico che poi di fatto ancora adesso lo stesso Buffon ha portato meno male la Juve a vincere il campionato perché dopo i primi risultati negativi io mi ricordo fu lui a strigliare tutto quanto la squadra spogliatoio e per certi versi diede una sveglia anche a parte di una parte della dirigenza ma ne abbiamo parlato tante volte di Totti e tante volte del suo approccio molto probabilmente comunque sia certo rimane sempre un leader e quando viene stuzzicato si motiva anche un pochino l'abbiamo visto nella scorsa partita è entrato non ha bisogno non ha bisogno di essere stuzzicato un giocatore che mette paura mette paura per la sua immensa classe tant'è che lo dichiararono in tanti cosa dici Brighetti dico solo che a un certo momento esagerano questa cosa in Totti è invece che è un opportunista lui si trova al momento giusto in cui passa la palla per far gol questi sono doti innaturali che gli vengono spontanei però sì anche se Spalletti ha ragione bisogna in un certo momento giocano dieci giocatori e lui cammina poi dopo gli capitano due tiri due gol io io apprezzerei Totti sempre per carità però bisogna anche dare ragione a Spalletti bisogna dare ragione perché lui i risultati della Roma li ha ottenuti non per Totti no no è chiaro poi dico tanto nell'ultima partita contro il Napoli è stata più che altro fortuna perché ripeto a livello di gioco molto meglio il Napoli rispetto alla Roma io sono abituato a dire la verità e ieri specialmente all'inizio del secondo tempo il Napoli tramite l'utilizzo di due esterni e soprattutto cosa ha fatto di intelligente ieri Sarri a un certo punto ha spostato Amsic tra le linee difesa e centrocampo della Roma e verticalizzavano subito cioè Albiol e Coulibaly più Coulibaly che Albiol dava questi palloni in una zona di campo non presidiato da nessun giocatore cioè tra le linee appunto Amsic si è collocato lì e la Roma non per niente ha rischiato parecchio e lì mi ha sorpreso Spalletti perché siamo andati avanti per mezz'ora con questa posizione un po' atipica da parte di Amsic non riesco a capire come Spalletti non abbia potuto Filippo ti devo fermare un attimo perché dobbiamo andare in pausa mantieni il ricordo sui grandi giocatori e sui giocatori stranieri perché tra poco nostro Sergio ha voglia di stuzzicarci un po' con i giocatori che arrivano dall'estero a dopo